ci troviamo in un boschetto panorama ragazzi da urlo mozzafiato è bellissimo è tutto bianco innevato io non so come diavolo sto facendo a salire con le mie gomme ma trazione ce n'è non ci si può lamentare è veramente bello marco la fa in salita col buerrino neve ce n'è come potete vedere ce ne parecchia forza marchino attacca sta targa e dai un gran gas facci vedere di cos'è capace il vr ecco lo che parte dai gas dai gas sali cattivo a chi dice che con la neve non si può andare ma dove abbiamo fatto 75 chilometri e ancora dobbiamo tornare all'auto e non dico tutti così ma gran parte eccoci qua che figata ragazzi lo so è più forte di me ragazzi ormai la conoscete ma è troppo bella sarà anche del 2006 ma guarda guarda che bomba cos'è fatto perché vieni giù spinta ma anche la mia non la spingi neanche a piangere la mia invece zero la mia se la metti in marcia tiri la frizione da spenta non la spingi fai una fatica bestia porca vacca vabbò dai bravo marchino metterò una faccetta spesso metto 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 metterò una faccetta spesso metto